Non lo farò mai più. Bene, ora io vado nella mia camera, qui di fronte. Se c'è bisogno di me, mi chiami pure. Buonanotte. Buonanotte. Salve, professore. Salve. Dove mi posso cambiare? Eh, di là. Ah, grazie. Oddio, mamma. No, non si preoccupi, è acqua. Come si sente? Benino. Oh, e allora che... te li recupererò prestissimo. Sarò una 007 perfetta, sta tranquillo. Però, se cerchi di fregarmi, ti sbaglio. No, che vai dicendo? Che dici? Ti voglio. No, no, non qui. E dove? No, non qui. Dove? Grazie. No, e questo è impossibile. Niente, è impossibile per Fed Maresciallo Rommel. Oh, com'è carina. Ah, scommetto che è ad acqua. Sì, com'è fatta a indovinare? Ma non credo assolutamente. Naturalmente. Ma il tono era deciso. In certi momenti lei appariva preoccupato. Come si dice? Incacchiato. Questo mi dispiace. Se ero incacchiato con lei... E come ce l'hai fatta? Beh, certo è stato un po' faticoso. Però io il mio lavoro lo faccio con tanta passione. Brava, brava, così se deve fare. Brava. Spogliate, spogliate su. Che te voglio di vincere col pennello mio. Sì, no, bello, bello, bello. Sì, no, bello, bello. Ha sentito niente, signorina? No, non ho sentito niente. Io invece ho sentito tutto. Facilissimo. E si copre. Ah, adesso voglio vedere chi di voi vuole cominciare a fargli mezz'ora per primo. Giancini, l'infermiera mandata dall'ufficio di collocamento. Tutte piccole così in famiglia? Io scherzo, sono un po' faceto. Lei giustamente mi vede congiato così, dice questo deve essere matto. Prego, si accomodi. Grazie.